Attimi di paura per una fuga di gas nel pomeriggio di oggi attorno alle 13 in via Casella ad Albosaggia. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che nel corso dei lavori di riqualificazione di un tratto della provinciale 16, involontariamente durante una manovra di scavo sarebbe stato danneggiato il tubo della rete del gas che serve le abitazioni della zona. Così è scattata l'emergenza, immediatamente gli operai si sono messi al lavoro per sistemare il tubo, mentre sul posto è stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco che hanno prestato la loro assistenza, pronti ad intervenire in caso di pericolo per la collettività. Quindi mentre gli addetti alla rete del gas chiudevano la condotta bloccando la fuoriuscita del metano, il traffico è stato fatto deviare su strade alternative dagli agenti della Questura. In pochi minuti ha raggiunto la zona anche il sindaco di Albosaggia, Graziano Murada, intervenuto per capire l'entità della perdita ed eventuali pericoli poi fortunatamente scongiurati.